Qui si tratta di una persona morta, deceduta, uccisa, insomma come si fa a dare 10 anni. L'omicidio non era ritenuto aggravato per cui non si partiva diciamo da 21 con la riduzione del rito abbreviato di un terzo, si va a 14 ma almeno quelli tielli. Fu omicidio volontario per questo Guarena Benoni, 56enne, clochard romeno, è stato condannato a 14 anni di reclusione per la morte di Maria Marina, la donna cosparsa di benzina e poi data alle fiamme con un accendino. Questo è il verretto della seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Si tratta di una lunga e travagliata vicenda giudiziaria iniziata con una condanna a 14 anni, inflitta dal giudice di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli e poi scesa in secondo grado a 10 anni. I giudici fiorentini avevano infatti derubricato il reato come preterintenzionale. Secondo loro l'uomo non voleva uccidere la donna perché aveva usato solamente mezza bottiglia di alcol. Cosa bizzarra onestamente perché 500 ml di alcol e poi un accendino con cui dai fuoco ad una persona insomma in genere uccide. Sentenza poi annullata dalla Cassazione che aveva rimesso tutto in mano alla Corte d'Appello di Firenze dove ieri è stato ridiscusso il verdetto anche per la forte volontà del figlio della vittima che si era costituito parte civile. Ha stabilito che effettivamente è vero si tratta di dolo volontario quindi omicidio volontario e siamo ritornati alla pena di anni 14 anziché 10. La tragedia si consumò ad Arezzo l'11 settembre 2014. I due entrambi clochard vivevano all'interno di una tenda di fortuna dove scoppiò una lite. L'uomo prima cosparse la donna con dell'alcol e poi l'idea del fuoco. Maria fu portata al centro grandi uscionati di Genova dove morì dopo 37 giorni di agonia. Tutti i femminicidi sono uguali quindi anche questo di una signora che vive in una capanna equivale a quello di un'attrice.